Capitano, capitano Le operazioni di preparazione alla lotazione sono quasi terminate, la nave verrà secondo le indicazioni fornite anche dalla società Costa Crociere e anche dal commissario Gabrielli che le ha ribadite qualche tempo fa sono previste per settembre, quindi a settembre la nave verrà riportata in assetto verticale e da quel momento saremo in grado di fare una proiezione relativa all'abbandono definitivo della nave dall'isola. Il turismo prima aveva una certa valenza, adesso è calato, ha avuto delle flessioni importanti dal punto di vista morale e riprenderci l'isola per come era prima, con quei silenzi, con quelle importanti giornate anche invernali che a noi davano molto, per questo viviamo su un'isola. Abbiamo un'isola, abbiamo un'isola, abbiamo un'isola, abbiamo un'isola, abbiamo un'isola, abbiamo un'isola, ma è veramente un'isola che ci si è davvero molto vero, cosa succede a queste persone qui a qui abbiamo un anno. passare e sapere ci sono delle persone sotto e purtroppo non si ritroveranno